18 tonnellate di alimenti scaduti in cattive condizioni igienico-sanitarie e privi di tracciabilità sono state sequestrate dai carabinieri del NAS nell'ambito di una serie di controlli eseguiti in stabilimenti di produzione e vendita alimentare di quattro regioni, tra le quali l'Abruzzo. In alcune strutture sono stati trovati prodotti scaduti anche da sette anni, nonché volatili ed escrementi nei locali. Il NAS di Pescara ha sequestrato tre tonnellate di alimenti di origine animale nel corso dei controlli a 14 autonegozi itineranti che operano nei mercati delle principali città abruzzesi, elevate decine di sanzioni per mancata tracciabilità e scarse condizioni igieniche e strutturali. Al mercato di Teramo i militari hanno sequestrato un camion negozio che presentava i piani di appoggio per carne, salumi e formaggi arrugginiti e sporco talmente diffuso da ricoprire vistosamente anche gli alimenti. La ruggine aveva raggiunto persino il registratore di cassa e le monete metalliche che si trovavano all'interno. Durante i controlli alle macellerie e agli stabilimenti di lavorazione carni, i carabinieri sono intervenuti su una macellazione clandestina di agnelli privi di bollo sanitario e hanno rinvenuto carcasse di animali attinte da muffe che opportunamente ripulite e sezionati sarebbero arrivate sulle tavole dei consumatori. In tutto l'Abruzzo, spiega il capitano dei NAS regionale Domenico Candelli, sono stati controllati 14 autonegozi, ispezionate 106 macellerie e a Teramo una macelleria aveva le carcasse di animali con la muffa e per questo esercizio la ASL ne ha disposto l'immediata chiusura.